Uno con l'associazione è nato il festival Teatro delle Cantinelle, festival che va tuttora avanti oggi e tutta una serie di corsi legati alla formazione, legati al teatro. E poi già nel 2002, nel 2003 organizzavamo eventi come associazione per alcuni enti del territorio biellese. Lavorando in un'associazione era diventato quasi un lavoro a tempo pieno, quindi l'obiettivo era quello di farlo diventare una professione retribuita a tutti gli effetti. Abbiamo cercato di capire ovviamente se c'erano i margini in parte, dal lato c'era un sogno che era già quello che facevamo come associazione, c'era il sogno di farlo diventare una vera realtà, quindi una realtà anche economica. Chiaro che questo è nato in un momento anche economico sicuramente non facile, però l'obiettivo era quello di consolidare le cose che facevamo, creare delle professionalità e farlo diventare una realtà economica significava anche quello, cioè riuscire a liberare davvero del tempo e per crescere da un punto di vista professionale. Allora, l'abbiamo concepita non in un periodo breve, nel senso che probabilmente già qualche anno prima, da quando abbiamo costituito la società, si sperava di farla diventare un'attività economica, quindi un lavoro a tutti gli effetti. Quindi ci abbiamo anche meditato abbastanza a lungo, finché poi alcune congiunture molto diverse ci hanno portato poi a prendere veramente la decisione e fare il passo per costituire proprio la società. Allora, in parte eravamo consapevoli, sicuramente consapevoli dell'impegno, perché già in qualche modo facendo quel lavoro lì, dietro a qualsiasi organizzazione, però nel campo nostro quello dell'organizzazione di eventi, del gestire progetti, anche specifici, legato alle politiche giovanili, legato alla cultura. L'idea dell'impegno ce l'avevamo già. Del rischio di impresa, in qualche modo anche, perché non è che ormai aveva maturato anche una certa conoscenza del mercato, della realtà. Nello stesso tempo non nascondiamo che l'abbiamo fatto con anche un po' di follia, perché effettivamente non è un periodo facile per il settore culturale, nel senso che negli anni 70 c'era un welfare state, dava un appoggio alla cultura, a queste realtà, in modo differente. Oggigiorno già gli stessi comuni o enti pubblici hanno delle difficoltà a chiudere i loro di bilanci, figuriamoci a sostenere in un certo modo le realtà. In più appunto, ovviamente è uno dei settori, quello culturale, che quando c'è crisi è il primo settore che in qualche modo viene tagliato, sia dall'ente pubblico, quindi a livello politico, e anche abbastanza dalle persone normali, di chi alla fine la cultura ne dovrebbe fruire. E forse si sacrifica più uno spettacolo o una mostra o cose di questo genere che non andare al ristorante. Questo significa riuscire a dovere, è una lotta veramente, riuscire a resistere da un lato, e nel nostro caso, che siamo anche nati da poco, invece riuscire a creare uno start-up in questo periodo è sicuramente non facile. Qui sta anche la follia, è stata la follia di riuscire a provarci lo stesso, cioè a essere convinti dell'idea che avevamo e provarci in ogni caso. Noi abbiamo più o meno tre ambiti di intervento. Uno è quello dell'organizzazione di eventi e i nostri clienti sono soprattutto enti pubblici, quindi organizzazione della folla e notte della città, piuttosto che del carnevale, eventi di piazza che quindi vanno dai concerti alla danza al teatro. E quello, come società cooperativa e il mercato dei sogni, sono andati in crescita, soprattutto dal punto di vista della qualità dell'evento. Quindi negli ultimi anni magari ne abbiamo fatti meno, ma siamo arrivati a lavorare in eventi più grandi. Consideriamo sempre un evento, anche un festival che è nato con l'associazione, ma che adesso sta portando avanti la cooperativa, che è cresciuto veramente nel tempo, cioè è partito otto anni fa con un budget ridottissimo e ora è diventata una manifestazione di rilievo, che tra l'altro entrerà troppo poco in Piemonte dal vivo, quindi ha ottenuto la patente anche dalla regione Piemonte. E poi lavoriamo per Libra Festival, che è un altro evento musicale che avviene a Sordeolo, un paese vicino a Biella, che avviene d'estate. Siamo alla quarta, terza edizione. E appunto come società noi prestiamo dei servizi dal punto di vista organizzativo, della comunicazione gestionale, anche per questa manifestazione. L'altro settore di intervento invece è quello molto più vicino proprio al teatro, che è poi la vera nostra origine. Abbiamo aperto questo a settembre, settembre-ottobre del 2008, un'accademia teatrale. Un'accademia teatrale con più insegnanti, destinata soprattutto ai ragazzi e agli adolescenti, anche se offre anche attività di formazione e laboratori per adulti. in più organizziamo seminari di alto livello, con maestri del teatro che arrivano da altre parti d'Italia, se non addirittura dall'estero. La terza componente invece sono progetti specifici di politiche giovanili. Di nuovo qui abbiamo lavorato molto con la provincia di Biella e con le scuole. Sono tre anni che organizziamo praticamente una trasmissione televisiva e seguiamo con i ragazzi tutto un processo, quindi dal processo, dalla redazione, dall'ideazione, poi le dividiamo in redazioni, fino ad arrivare proprio alle registrazioni, alla trasmissione, di tutti i servizi, tutti i contenuti che la trasmissione contiene. Questo, da un punto di vista culturale, abbiamo trovato un lavoro molto interessante, perché permette ai ragazzi di vedere veramente la televisione dall'altra parte, quindi non solo che, non tutti possono avere questa opportunità qua, siamo tutti in qualche modo a vario titolo consumatori di televisione, è bello vedere i meccanismi invece da dietro, quindi come si può agire, come si possono raccontare delle cose, quanti modi ci sono o ci sarebbero per farlo. Quindi questi sono i nostri tre settori, uno, ecco, noi abbiamo fatto anche dalla nostra un po' una virtù, il fatto di essere molto versatili, siccome abbiamo proprio, noi siamo partiti con un'associazione, quindi abbiamo imparato più o meno a fare tutto, questo è una virtù da un lato, ma un limite anche dall'altro, perché avremmo bisogno di poter crescere molto di più dal punto di vista personale per poter davvero sviluppare questi tre settori, quindi riuscire a allargarci anche e soprattutto fuori dal territorio biellese, abbiamo già iniziato su alcune attività, però il vero sviluppo lo si potrebbe avere se uno riuscisse a lavorare davvero anche fuori dal Piemonte, quindi riuscire a lavorare in Lombardia e in altre regioni d'Italia. Siamo entrati in contatto in maniera, non dico casuale, ma quasi, abbiamo trovato del materiale informativo, credo un volantino, un flyer in giro per la città, noi avevamo appunto intenzione già di averci verso una forma di impresa e quindi siamo andati a informarci poi sul sito, abbiamo fatto qualche telefonata e abbiamo conosciuto lo sportello, quindi questa è stata la maniera, ovviamente era molto ben segnalato su internet e chi ci ha dato informazioni è stato molto preciso, quindi siamo riusciti in maniera immediata, entro pochi giorni già a prendere contatto con lo sportello. Nel processo formale di creazione è stato fondamentale, nel senso che ci hanno istruito in maniera corretta sulla forma societaria più adatta rispetto al budget di investimento che avevamo noi, rispetto ai soci che eravamo e alle aspettative che avevamo. Ci hanno indirizzato infatti verso la forma della società cooperativa, che era una forma più adatta agli nostri obiettivi e poi ci hanno anche consigliato dal punto di vista dei contenuti, del business plan, non solo della parte economica ma anche della parte di obiettivi, di attività, perché ci hanno aiutato da un punto di vista più tecnico a ragionare su quali attività potessero effettivamente avere uno sviluppo imprenditoriale e quali forse ce l'avevano un po' meno. Tra i servizi dello sportello sicuramente la consulenza informativa e poi soprattutto l'averci permesso di costruire un business plan che poi ha ricevuto un finanziamento e quindi ci ha sostenuto nella fase di avviamento quella in cui sarebbe stato complesso senza un grosso budget iniziale pagarsi i primi stipendi, pagarsi le spese di costituzione, iniziare a lavorare del materiale informativo e promozionale. Quindi questo è stato il servizio che ci hanno reso e ci è stato più utile. Il percorso dal momento in cui abbiamo ricevuto le prime informazioni ci siamo rivolti allo sportello abbiamo fatto un percorso di circa tre mesi con riunioni abbastanza frequenti con i responsabili dello sportello. Dopodiché sì, entro brevissimo quindi tra i tre e i cinque mesi siamo riusciti già ad aprire la nostra impresa e poi ci è voluto un po' più di tempo ovviamente per sbrigare tutte le pratiche e ottenere poi il finanziamento che ci ha permesso di fare gli investimenti di cui parlavo prima. ma comunque diciamo per l'avviamento e l'apertura dell'impresa tra settembre e dicembre quindi tra i tre e i cinque mesi siamo riusciti a fare tutto. Sono diverse. Allora da un lato è proprio riuscire ad aumentare lo staff di lavoro. Noi sono tre anni che lavoriamo e arriveremo adesso pur essendo i soci fondatori a farci un contratto a tempo indeterminato quindi proprio perché i costi sono veramente alti e i margini sono talmente marginali che diventa duro riuscire a pianificare degli investimenti e quindi riuscire a progettarsi la crescita dell'azienda. Di pari passo vanno appunto la possibilità di investimento che è legata all'imprenditorialità noi siamo partiti però veramente dove le uniche cose che avevamo era il tempo il tempo è quello che sapevamo fare sono due anni che vorremmo fare degli investimenti di un certo tipo però ovvio che in questi tempi qua uno non è facile trovare credito è molto difficile o comunque sì lo si può trovare ma con delle si può trovare se si hanno degli avallanti se si ha qualcuno dietro ma se non abbiamo non avendo delle persone o altre realtà che possono avallare per noi diventa molto difficile nello stesso tempo non fare questi passi non ci permettono di fare quelli che secondo noi sarebbero i passi giusti per crescere e quindi si è un po' obbligati a rimanere in una dimensione troppo piccola per l'ambizione del nostro progetto imprenditoriale che dovrebbe avere un respiro sicuramente più ampio dall'altra un altro problema è anche la mentalità la mentalità del territorio la mentalità anche della parte politica in certi casi di non riuscire è ovvio che imprese come le nostre si trovano a essere veramente a metà tra il mercato vero e proprio e quello che è invece anche un'idea politica nel senso buono del termine di progettualità sul territorio quindi noi abbiamo continuato per assurdo anche a sposare alcuni progetti che da un punto di vista imprenditoriale avremmo dovuto smettere immediatamente dal punto di vista delle ideologie invece abbiamo cercato di portarli avanti perché le ritenevamo importanti questo è un problema nel senso che a volte magari ci sono delle imprese o giovani imprese che hanno degli obiettivi a medio e lungo termine e poi invece il territorio o l'ente pubblico non riesce ad avere degli obiettivi di questo tipo che porterebbero dei risultati sì, forse non all'immediato tra 4 o 5 anni però risultati di tutt'altro tipo di quello che invece si raccoglie da 6 mesi a 6 mesi quindi diciamo i problemi principali sono ovvio questa è una crisi che non è solo del nostro settore ma è in tutti i campi e questo comunque porta già a un atteggiamento al lavoro, al mercato che è abbastanza sommessa quindi non viviamo un periodo dove si trovano investitori dove anche qualcuno disposto a credere in alcuni progetti che potrebbero assolutamente essere imprenditoriali e dare anche dei risultati dal punto di vista economico importanti e quindi si è lì tra il problema di riuscire a investire la paura anche di riuscire a farlo e il fatto di riuscire da un lato sì, si vorrebbe crescere assumere delle persone ma d'altronde se uno non riesce a garantire il buono stipendio per giocoforza non ce la fa e quindi lavori con lo staff noi siamo più o meno 5 soci ma diciamo a full time siamo in due persone e poi ci avvaliamo di collaboratori durante l'anno in base ai progetti e alle cose che portiamo avanti a livello di obiettivi sicuramente la prima cosa che mi viene istintivamente di dire è uscire da questo periodo di crisi con la nostra azienda sana e senza particolari problemi in più un obiettivo a cui stiamo già lavorando da alcune settimane è proprio quello di riuscire a sviluppare meglio i nostri settori di attività a organizzarci meglio a sfruttare e anche se sembra un paradosso il periodo di crisi e di difficoltà per concentrarci sulla nostra realtà e sui nostri collaboratori che comunque vorremmo stiamo cercando il modo di portare dentro alla nostra impresa proprio perché la nostra è una società cooperativa è un'impresa che una società cooperativa di lavoro quindi più persone ci lavorano in un ambiente sano in un ambiente creativo in un ambiente positivo meglio va l'azienda ovviamente se l'azienda resta rigida e sottodimensionata non può avere una prospettiva di sviluppo molto positiva quindi sicuramente l'obiettivo è cercare di organizzarci sempre meglio trovare il modo di assumere avere dei collaboratori più stabili e poi soprattutto trovare il modo di investire quindi sicuramente un obiettivo sarà cercare degli investitori cercare noi il modo di sviluppare dei progetti che possono essere interessanti per chi può dare una mano può darci una mano a svilupparli e comunque insistere molto su fare qualcosa di utile sul nostro territorio siamo un'impresa che comunque è un'impresa no profit siamo comunque un'impresa che lavora in un ambito culturale e sociale che quindi deve avere come obiettivo al di là delle formalità dei riconoscimenti deve avere un obiettivo di importanza nella società in cui opera e quindi noi insisteremo come dei Don Quixote e speriamo di no per perseguire questo obiettivo Sono Maurizio Ficcadenti il titolare della Fastom SRL la Fastom si occupa di progettazione produzione e commercializzazione di automodelli radiocomandati da competizione attraverso il marchio Motonica Io ho iniziato all'età di 23 anni circa con la volontà di sviluppare delle attività in proprio nello specifico nel 1995 ho iniziato con la mia prima attività relativa alla progettazione relativa al design automobilistico e questo poi mi ha dato la possibilità di attivare all'interno della prima attività un progetto di ricerca e sviluppo che è stato quello utilizzato poi per realizzare l'idea all'interno della Fastom SRL Allora io penso che non sia l'unico non sia l'unica persona a desiderare di realizzare diciamo un qualcosa che possa far riferimento alle proprie passioni e quindi diciamo è stato abbastanza naturale da una parte incosciente dall'altro molto probabilmente riuscire ad immaginare che possa essere possibile realizzare uno dei propri sogni tra cui quello che ho portato avanti attraverso la mia idea Allora il progetto della Fastom è nato nel 2003 mentre la società è stata creata nel 2005 ed è diventata operativa nel 2006 Sicuramente diciamo quello che avevamo o quello che avevo pensato di dover affrontare all'interno di questa iniziativa imprenditoriale era solamente una parte di tutto quello che poi mi sono trovato di fronte e quindi molto probabilmente ho sottovalutato tantissimi aspetti o perlomeno la complessità che grava intorno al a tutti i nostri spettatori che aveva intorno al